Il Comune di Alerona, con l'Associazione Culturale, Coro Polifonico, Canto Libero e l'Associazione Amici di Alerona, presenta il Galà Lirico. Masterclass di Gabriella Ravazzi, a cura dell'Associazione Spazio Musica. Con aria ed uetti dalle opere di Verdi, Puccini, Donizietti, Rossini e Mozart. Gala Lirico. Masterclass di Gabriella Ravazzi, a cura dell'Associazione Spazio Musica. Martedì 13 agosto, ore 21 e 15. In diretta, dalla Sala Aurora di Alerona, solo su, Coro Canto Libero TV.